Strada vicinale Pozzo d'Esse numero 22 Siamo nella strada che congiunge la rotatoria appena arrivando da Sassari per arrivare a Pozzo San Nicola di Rastintino, appena dopo la corte Alle mie spalle potete già entra vedere quanto verde abbiamo a disposizione Vedrete presto un immobile degli anni 90 che cerca un nuovo proprietario Una casa indipendente, molto spaziosa con un E37 di terreno Per quanto riguarda invece la casa, spero le immagini possano catturare la vostra attenzione Distante dai servizi ma immersa nella tranquillità Buona visione e a presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti!